Rieccoci collegati per in attesa dell'ultima gara di qualificazione che sarà quella del K1 senior femminile collegati dal Decathlon di Tor Vergata che ci sta ospitando in questa prima edizione del Decathlon Challenge, gara a conclusione del percorso federale Fitch Coach che ha visto fasi societarie, fasi regionali fino ad arrivare qui a svolgere per l'appunto la fase finale del Decathlon Challenge, progetto che è stato voluto dalla Federazione Italiana Canoa Kayak per creare motivazione, controllo e soprattutto competizione anche nella fase invernale tant'è che per la prima volta ci troviamo a misurarci in un contesto nazionale ma sulla terraferma, sulla terraferma dove sono presenti non solo le società di acqua piatta ma società di altre discipline della Federazione Canoa, quindi del reparto discesa, del reparto slalom e quindi un confronto lineare, trasversale per tutte le discipline così come prevede il progetto Fitch Coach della Federazione. Siamo in attesa delle ultime due gare di qualifica del mattino per quanto riguarda il kayak senior femminile che vedrà l'acqua uno Sigillo Enrico Enrico del Circo Nautico Ristano al 1, Munerato Giulia della Canotieri Padova al 2, Chiaberge Laura del Circo Nautico Ristano al 3, Guadagnini Aurora della SCK a Monfalcone al 4, Razzauti Valentina Shockwave Sport in acqua 5. Seconda batteria che vedrà impegnato all'acqua uno Mazzucato Giorgia della Canotieri Padova, Capodimonte Francesca della Marina Militare, dal DOS Sara Canotieri Padova, Vesentini Sara Canotieri Mincio, Prone Jasmine della Sestese Canoa. Grazie. 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 Allora, possiamo intanto dire i partecipanti alla gara, alla finale del kayak ragazzi maschile che vedrà all'etrice 15 impegnati Zapponi Matteo della Bissolati, Spiru Mauro delle Fiamme Gialle, Pedralli Samuele della Canottieri Mestre, Bocchinfuso Marco della Canottieri Eur, Penasa Giovanni del Cuspavia, Struccheli Rodolfo del Cano a San Giorgio, Oggioni Giacomo della Canottieri Agniene, Tagliani Andrea della Canottieri Ticino. Questa è la prima gara di finale per quanto riguarda il K1 ragazzi maschile, per quanto riguarda il K1 ragazze femminile alle 13.30. Rigoli Elena della Sestese Canoa, Grassi Alice del Caldonazzo, Vittor Giorgia della Canottieri Timavo, Barbieri Roberta del Cuspavia, Beretta Sofia della Cicappa Ledro, Mattia Francesca delle Fiamme Gialle, Colobov Irina del Cus Milano e Valli Sofia della Sestese Canoa. A seguire la gara Junior Kayak Maschile, Derna Alessandro del Cus Milano, Checchie Emanuele delle Fiamme Gialle, Palliola Fabiano del Cicolo Kayak a Stegandolfo, Soldi Giulio della Canottieri Bissolati, Muccelli Tommaso del Canoa Club Sandonà, Fursov Dimitro della Società Canottieri Timavo, Dallarosa Jacopo Sestese Canoa, Zerbinato Giovanni Canottieri Padova. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Si stanno ultimando la preparazione della prima serie della kayak femminile, impostazione e taratura degli attrazione e taratura degli attrezzi della macchina. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. 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 Monfalcone. Passati 500 metri di gara, continua la progressione di Munerato Giulia che prende un leggero vantaggio su Chiaberge e Guadagnini, 12 la velocità istantanea di Munerato Giulia che prende vantaggio su Chiaberge in seconda posizione e Guadagnini in terza. 350 metri all'arrivo, 3 minuti di gara già realizzati e continua la progressione di Munerato Giulia. Grande il suo vantaggio in questo momento, a 300 metri dall'arrivo in 3.22 al passaggio, seguita da Chiaberge Laura, dove in questo momento Aurora Guadagnini si è avvicinata molto molto alla punta di Chiaberge, mentre è netta ancora la posizione di Munerato Giulia in questo momento della gara. Ultimi 200 metri per Giulia Munerato della società Canottieri Padova. Una barca di vantaggio in questo momento, Chiaberge Laura tallonata da Aurora Guadagnini, molto vicino alle imbarcazioni delle due ragazze, è sicura in questo momento a 130 metri all'arrivo la posizione di Munerato Giulia, continua la sua progressione a 100 metri dall'arrivo in 4.24, Chiaberge a un leggero margine su Aurora Guadagnini, 50 metri finali per Munerato Giulia della Canottieri Padova per aggiudicarsi questa prima serie di qualificazione. In seconda posizione Chiaberge Laura del circolo nautico Rissano allenata da Andrea Lilliu, taglia il traguardo in questo momento in 4.52.60 a Munerato Giulia, seguita da Chiaberge Laura in 4.59.24, Aurora Guadagnini in 5.01.54 e in quarta posizione sigillò Enrica in 5.07.64. Conclusa questa prima prova di qualificazione, come da procedura adesso le ragazze provvederanno a igienizzare ergometro, manico e sedile, in attesa che si presentino al via della seconda serie Mazzucato Giorgia della Canottieri Padova, Capodimonte Francesca, Marina Militare, Daldò Sara Canottieri Padova, Vesentini Sara Canottieri Mincio, Prone Giasmine della Sestese e Canoche. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 5.98 per Francesca Capodimonte in quarta posizione Mazzucato Giorgia della Canottieri Padova in 5.05.50 segue per la sestese canoa Jasmine Prone che conclude in questo momento in 5.14.25 si conclude il turno di qualificazione del mattino in attesa delle finali che inizieranno dalle ore 13 per quanto riguarda le gare di paracanoa maschile e femminile per proseguire poi con il kayak ragazzi maschile e femminile prima alle 13.15 il maschile 13.30 femminile quindi ogni gara ogni 15 minuti a partire dalle ore 13 fino alle ore 15.15 in cui si concluderanno con la prova della canadese femminile con la prova della canadese per la canadese grazie a tutti i dati Grazie. 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 Si sta preparando la prima finale in programma per quanto riguarda la giornata di oggi. Parliamo delle gare di Paracanoa. Paracanoa qui rappresentata soprattutto da Mancarella Federico, medagliato alle recenti Olimpiadi di Tokyo 2020. Quindi ragazzi un grande applauso a Federico che ci ha rappresentato e per il suo successo ottenuto. Così come per quanto riguarda De Paolo Isenonora, già campionessa europea e più volte medagliata alle gare internazionali. All'acqua 1, Embriaco Amanda della canottieri Sanremo. De Paolo Isenonora all'acqua 2. Cristian Volpi all'acqua 3 per le saline. Mancarella Federico per il Canocla Bologna all'acqua 4. Giacomo Tommaso della canottieri Mutina all'acqua 5. E Bezzi Lorenzo del circolo canottieri Aniene all'acqua 6. Anche loro percorreranno i mille metri di gara, percorreranno la prova sui mille metri. Come per le altre categorie fin qui fatte. Qui sarà una gara molto lunga per quanto riguarda la loro categoria. La loro categoria che alle Olimpiadi e ai campiati del mondo si svolge prevalentemente sulla gara dei 200 metri. Federico Mencarella, appunto, bronzo alle recenti Olimpiadi di Tokyo nel K1 200 metri. che sarà il nostro capitano in questa gara. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. finale di questa mattina che vedrà impegnata la gara della paracanoa sia maschile che femminile in acqua 1 Embriaco Amanda della Canotieri Sanremo De Paulis Eleonora del circo Canotieri Agniene al 2 Volpi Cristian delle Saline al 3 in acqua 4 il medagliato olimpico di Tokyo 2020 Mancarella Federico del Canoclub Bologna Giacomo Tommaso per la Canotieri Mutina e Bezzi Lorenza del Circo Canotieri Agniene diamo ancora qualche minuto ai ragazzi per scaldarsi e prepararsi e poi sarà pronta la prima finale di questa giornata che vedrà seguire poi la gara del K1 ragazzi maschile la gara del K1 ragazze femminile junior maschile junior femminile senior maschile femminile e poi le gare della canadese ok ragazzi fermiamo le ventole stop paddling attimo di preparazione per la gara partita in questo momento la prima gara di finale dell'edizione del decathlon challenge della federazione italiana canoa kayak in questa gara vedi impegnati sia ragazzi che ragazze della categoria della paracanoa in acqua 1 embriaco amanda della canottieri sanremo in acqua 2 de paulis eleonora del circolo canottieri agniene volpi cristian delle saline al 3 in 4 mancarella federico mancarella federico del canoclub bologna giacco tommaso della canottieri mutina al 5 e bezzi lorenzo del circolo canottieri agniene questa gara qua ovviamente la classifica vede coinvolte più categorie quindi ognuno affronterà prevalentemente una sfida con se stesso nel cercare di portare al termine questa prima prova nel migliore dei modi la classifica sarà solo un riferimento ma sarà più che altro un risultato individuale in questo momento cristian volpi in acqua 3 ha preso un leggero marge di vantaggio è una gara totalmente a livello di distanza anomala perché le gare di paracanoa sono sui 200 metri quindi i ragazzi svolgeranno fondamentalmente cinque volte la loro distanza gara con un impegno molto lungo molto ampio vediamo comunque velocità di 13 all'ora istantanea 12 e 2 velocità importanti è sempre cristian volpi in acqua 3 che conduce questa serie maschile femminile seguito in acqua 4 da mancarella federico 13 e 4 la velocità di cristian 12 e 6 quella di federico già percorsi i 500 metri da questi ragazzi e ragazze 2 minuti e 20 la gara si sentono le indicazioni dei rispettivi tecnici sulla gestione del percorso sulla gestione della tecnica sull'intensità che stanno mantenendo 400 metri ancora da percorrere per cristian volpi sempre sopra i 13 all'ora la velocità in questo momento si avvicina federico mencarella che attualmente lo supera nella velocità ma è ancora dietro nella distanza ognuno porta il percorso la tecnica a seconda delle proprie abilità meno di 250 metri per cristian che si vede avvicinare da federico mancarella all'acqua 4 aumenta decisamente la velocità istantanea per federico cerca di contrastare cristian mentre è molto bello anche la sfida tra amanda ed eleonora per quanto riguarda la categoria femminile siamo sempre sopra i 10 chilometri all'ora di velocità media 11 e 6 ultimi 100 metri per cristian volpi seguito da federico mencarella cristian ritorna ai 14 chilometri all'ora di velocità rush finale di cristian di federico per gli ultimi 20 metri di gara 13 e 3 la velocità e conclude in questo momento cristian volpi in 4 23 14 vincitore della prima finale del decathlon challenge segue federico mencarella in 4 35 06 in questa gara open al terzo posto ma prima per quanto riguarda la categoria femminile si avvicina amanda embriaco in acqua 1 pochi metri per amanda ancora che conclude in 4 57 21 in questo momento in gara ancora per l'acqua 6 bezzi lorenzo de paulis eleonora e giaco tommaso arriva in questo momento la rush finale tra bezzi e de paulis bezzi de paulis conclude in quarta posizione in 5 24 70 bezzi seguito a 5 25 91 da eleonora de paulis ultimi metri adesso per giaco tommaso della canottieri mutina un grande applauso per gli ultimi metri di questa prima finale del decathlon challenge che vede concludersi adesso con la prova di giaco tommaso in 5 48 50 complimenti ragazze complimenti ragazzi abbiamo assistito alla prima finale della prima edizione del decathlon challenge che si sta svolgendo grazie all'ospitalità della decathlon di tor vergata bravi e brave facci vedere il braccio ci faccio vedere il braccio tonico da come ha parlato amanda in questo momento sappiamo che può fare di più e meglio perché c'è già fiato e ossigeno per parlare quindi nel frattempo si possa avvicinare al cancello d'ingresso i partecipanti della prima finale della seconda finale quindi il kayak ragazzi maschile grazie a tutti grazie a tutti ok la gara ragazzi è invitata a presentarsi al proprio pagaergometro prego ragazzi categoria ragazzi in partenza grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie. Si preparano all'acqua 1 per la finale ragazzi all'acqua 1 Zapponi Matteo della Canottieri Bissolati, Spiru Mauro delle Fiamme Gialle al 2, al 3 Pedralli Samuele della Canottieri Mestre, al 4 Bocchinfuso Marco della Canottieri Eur, alla 5 Penasa Giovanni del Cuspavia, al 6 Struccheli Rodolfo del Cano a San Giorgio, al 7 Oggioni Giacomo del Ciro Canottieri Agniene e Tagliani Andrea della Canottieri Ticino all'acqua 8. Come nelle fasi precedenti, adesso i ragazzi imposteranno e prepareranno l'ergometro. Sarà una gara come precedentemente già fatto, sui mille metri. Grazie. 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 Adesso si sta procedendo con l'impostazione e la taratura delle macchine, che vedrà poi impegnati gli atleti in questa seconda gara di finale del Decathlon Challenge, composta da Zapponi Matteo all'1, Spiru Mauro al 2, Pedralli Samuele al 3, Bocchinfuso Marco al 4, Penasa Giovanni al 5, Struccheli Rodolfo al 6, Oggioni Giacomo e Tagliani Andrea. Grazie. 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 Ok, ultimi momenti di preparazione per la seconda finale in programma, quella della categoria ragazzi maschile. Ok ragazzi, fermiamo le macchine. Rispettiamo attentamente i comandi vocali dello starter per evitare di ripetere più volte la partenza. Partenza regolare, la seconda finale in programma, K1 ragazzi maschile. Parte velocissimo in acqua 3 Pedrali. Velocità istantanea di 17 km all'ora, seguito in acqua 6 da Struccheli del San Giorgio. 100 metri di gara in cui l'acqua 3 e l'acqua 6 prendono subito vantaggio sugli altri partecipanti. sempre primo Pedrali in acqua 3, seguito da Struccheli e l'acqua 5 Penasa Giovanni del Cuspavia. Segue in acqua 4, appunto l'acqua 4 Bocchinfuso della Canottieri Eur. Un quarto di gara concluso in 57 secondi, che vede sempre al primo posizione Pedrali della Canottieri Mestre. si avvicinano sia Penasa sia Struccheli e Bocchinfuso nel gruppo di testa. hanno un leggero vantaggio dall'acqua 3 all'acqua 6, punto Pedrali, Bocchinfuso, Penasa e Struccheli. Mantiene la testa ancora Pedrali della Canottieri Mestre. al secondo posto Struccheli e in terza posizione Penasa Giovanni. Passa in questo momento Struccheli in vantaggio a 550 metri dall'arrivo. Primo Struccheli e in seconda posizione adesso è Penasa, che passa in questo momento Struccheli, quindi ai 500 metri Penasa primo, Struccheli secondo, in terza posizione Pedrali e Bocchinfuso quarto. Bocchinfuso che passa in terza posizione in questo momento. E' Penasa che mantiene la testa in questo momento, vicino vicino Struccheli Giacomo del Canottieri San Giorgio, mentre attualmente la velocità più alta ce l'ha Bocchinfuso della Canottieri Eur. Penasa si distende e allunga. Bocchinfuso in seconda posizione attualmente, Penasa primo, Bocchinfuso secondo. Struccheli in terza posizione, si allontana in quarta posizione, l'acqua tre Pedrali. Ultimo quarto di gara, 250 metri all'arrivo, 3 minuti e 0,5 già fatti. Penasa in prima posizione, 13,7. Molto alta la velocità di Bocchinfuso che è in seconda posizione in questo momento e in terza posizione Struccheli del Canottieri San Giorgio. 200 metri alla conclusione e ancora il vantaggio di Penasa Giovanni del Cuspavia allenato da Daniele Bronzini. mantiene la sua posizione Penasa Giovanni seguito da Bocchinfuso e Struccheli che sta cercando un rush finale di riportarsi sotto. 100 metri 100 metri dove la velocità di Penasa è tornata sopra i 14 chilometri all'ora sempre in vantaggio Penasa Giovanni Cuspavia seguito da Bocchinfuso Marco della Canottieri Eur gli ultimi 20 metri di Penasa Giovanni Bocchinfuso e Struccheli e vince Penasa Giovanni in 4, 14, 13 4, 16, 46 per Bocchinfuso 4, 18, 82 per Struccheli segui quarta posizione l'Acqua 3 in 4, 24, 33 quinta posizione per l'Acqua 1 in 5, 32, 60 sesta posizione quinta posizione per l'Acqua 7 ed ecco l'ordine d'arrivo finale vince l'Acqua 5 in 4, 14, 13 Penasa Giovanni del Cuspavia in seconda posizione 4, 16, 46 Bocchinfuso Marco della Canottieri Eur e in terza posizione l'Acqua 6 in 4, 18, 82 e Struccheli del Canoa San Giorgio segue l'Acqua 3 in 4, 24, 33 l'Acqua 7 in 4, 32, 38 l'Acqua 1 4, 32, 60 l'Acqua 8 4, 33, 48 e l'Acqua 2 4, 36, 65 complimenti ragazzi e un applauso dal pubblico bravi si possono preparare le partecipanti alla gara di finale del K1 ragazze femminili grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti. Che vede in le partecipanti Rigoli Elena all'acqua 1 della Sestese Canoa, Grassi Alice del Circolo Nautico Caldonazzo all'acqua 2, all'acqua 3 Vittor Giorgia della Società Canottieri Timavo, in acqua 4 Barbieri Rebecca del Cuspavia, all'acqua 5 Beretta Sofia Cicappa Ledro, Mattia Francesca Fiamme Gialle all'acqua 6, in acqua 7 Colobova Irina del Cus Milano e all'acqua 8 Valli Sofia della Sestese Canoa. Diamo qualche minuto alle ragazze per impostare l'ergometro, ai tecnici di impostare le macchine pesa e taratura e assisteremo alla terza finale del programma di oggi, K1 Ragazze Femminili. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 per le fiamme gialle in acqua 6 Colobova Irina del CUS Milano in acqua 7 e in acqua 8 Valli Sofia della Sestese Canoa ultimi momenti di preparazione degli attrezzi di riscaldamento per l'atlete atlete impegnate nella finale del K1 millimetri ragazze femminili quando vedremo i tecnici meccanici uscire dal campo vuol dire che gli attrezzi saranno tarati attrezzati in modo adeguato vediamo impegnato il tecnico Paolo Carraro Antonio Di Ledro Luca Piemonte e Stefano Grillo impegnati nella preparare le macchine e gli attrezzi dei propri atleti escono i meccanici dal campo si scaldano i motori Antonio come sempre fa lo zanza all'ergometro della sua atleta Rizzi Antonio sta zanzando al paga ergometro della sua atleta Beretta Sofia ci siamo? Antonio ultimi momenti di preparazione e poi vedremo la partenza della gara del K1 ragazze femminili ok fermiamo le macchine pochi istanti alla partenza della terza finale di giornata K1 ragazze femminili partite partite in questo momento la terza finale di giornata Rigoli Sestese alla 1 Grassi Caldonazzo alla 2 Vittor Timavo alla 3 Barbieri Cuspavia alla 4 Beretta Ledro alla 5 Mattia Fiammegiale alla 6 alla 7 Colobova Irina Cus Milano Valli a Sestese Canoa alla 8 parte subito veloce alla 5 alla 4 Beretta e Barbieri iniziano a prendere un leggero margine sulle avversarie dopo 200 metri di gara e l'acqua 5 Beretta Sofia il leggero vantaggio su Barbieri Rebecca è un testa a testa tra loro due un continuo cambio di posizioni adesso Barbieri su Barretta e in terza posizione l'acqua 7 Colobova Irina dopo 250 metri di gara e prima l'acqua 4 Barbieri Rebecca del Cuspavia seguita da Beretta Sofia del Ledro e Colobova Irina del Cus Milano 12 5 12 5 la velocità istantanea di Barbieri Beretta vede ancora un leggero margine per quanto riguarda Barbieri Rebecca e si fa sotto in acqua 6 Mattia Francesca delle Fiamme Gialle in prima posizione attualmente sempre Barbieri Rebecca Beretta Sofia in seconda in terza Colobova e in quarta posizione l'acqua 6 Mattia Francesca sempre testa testa tra la 4 e la 5 Barbieri Beretta 12 2 di velocità istantanea delle due ragazze siamo quasi a metà gara metà gara che porta davanti ancora Barbieri Rebecca del Cuspavia 2 minuti e 23 24 ai 500 metri sempre duello tra Barbieri e Beretta Beretta per la prima posizione segue l'acqua 7 di Colobova Verina e l'acqua 6 di Mattia Francesca delle Fiamme Gialle passa in questo momento Beretta Sofia dell'Edro 12 1 di velocità istantanea cala leggermente Rebecca Barbieri del Cuspavia mentre Colobova Verina è tallonata da Mattia Francesca delle Fiamme Gialle per la terza posizione 12 di velocità istantanea per Beretta Sofia dell'Edro 11 e mezzo per Rebecca Barbieri del Cuspavia in terza posizione mantiene Mattia Francesca che ha superato Colobova Irina del Cus Milano continua il margine per Beretta Sofia sempre vicino Rebecca Barbieri del Cuspavia e per la terza posizione leggero margine per Mattia Francesca delle Fiamme Gialle in quarta posizione la Quasette Colobova Irina del Cus Milano 150 metri all'arrivo 150 metri all'arrivo di questa terza gara di finale conduce sempre Beretta Sofia della Ledro seguita da Barbieri Rebecca in terza posizione Mattia Francesca e Colobova Irina in quarta posizione ultimi cento metri ultimi cento metri ragazze grande tifo per queste ragazze che sono agli ultimi metri della loro gara di finale gara di finale condotta in questo momento da Beretta Sofia dal Cicappa Ledro 12 1 di velocità seguita in seconda posizione da Barbieri Rebecca del Cuspavia terza posizione per Mattia Francesca conclude adesso in 4 52 30 Beretta seguita da Barbieri 4 57 in terza posizione Mattia Francesca delle Fiamme Giali in 5 00 71 quarta posizione per Colobova Irina in 5 09 quinta posizione per l'Acqua 3 Vittor Giorgia in 5 11 sesta posizione in 5 18 32 per Grassi Alice Complimenti ragazze un applauso a parte di tutto il pubblico per la vostra prova e anche questa gara di finale si è conclusa bravissime ragazze due prove in poche ore una prova massimale bravissime presentiamo nel frattempo la prossima gara di finale che sarà quella del K1 junior maschile che invitiamo a presentarsi all'ingresso che invitiamo a presentarsi all'ingresso nel frattempo le ragazze igienizzino gli ergometri utilizzati manico e pagaia quarta gara di finale quarta gara in programma K1 junior maschile che vede all'acqua 1 Kolobov Alexei del CUS Milano Bosio Ryan della Sessese Cano all'acqua 2 all'acqua 3 Palliola Fabiano del Circo Locaia Castel Gandolfo in acqua 4 Soldi Giulio Canottieri Bissolati all'acqua 5 Muccelli Tommaso Canoaclub Sandonà Vittor Matteo della Società Canottieri Timavo all'acqua 6 dalla Rosa Jacopo in acqua 7 della Sessese Canoa e in acqua 8 per la Canottieri Padova Zerbinato Giovanni Zerbinato Giovanni Zerbinato Giovanni Zerbinato Giovanni Grazie a tutti. Grazie a tutti. All'acqua 4, Sol di Giulio, della Canottieri Vissolati. All'acqua 6, Muccelli Tommaso, della Canottieri San Donà. Vittor Matteo, della Società Canottieri Timavo, alla 6. Alla 7, dalla Rosa Iaco, della Sessese Canoa. Zerbinato Giovanni, della Canottieri Padova, alla 8. L'occasione è per un altro saluto con Manfredi Rizza, che è qui presente e più che mai l'occasione è utile. Manfredi, che presenta a questi giovani ragazzi qualche consiglio, qualche invito, qualche sbavatura o qualche errore da non ripetere visto la tua prodigiosa carriera? Qualche errore. No, adesso devono fare la finale, devono concentrarsi, quindi bocca al lupo e che vinca il migliore, insomma. Sarà dura. Allora, io sono un po' in imbarazzo perché se ti immagini a me fare una cosa del genere, penso che non ce la farei mai. Quindi tutto è possibile. Quindi tutto è possibile, sì sì. Quindi ragazzi, l'invito di Manfredi è quello di guardare avanti perché tutto è possibile, tutto può avere un grande futuro, ma soprattutto Manfredi, nel breve, come stai affrontando questo tuo percorso dalle gare dei 200 metri che hai concluso una storia di grandissimo prestigio a quello che sarà il nuovo programma, il nuovo progetto olimpico? Allora, diciamo che la nuova distanza porta delle nuove sfide. Non è facile, per fortuna, diciamo che quando ero un po' più giovane ho già fatto un po' di gare su 500 metri. Insomma, il mio esordio in nazionale è stato proprio col K4 500 quando ero ancora junior, quindi insomma tu te lo ricordi. Fortunatamente ho delle doti nascoste che spero vengano fuori. No, però è difficile, è dura, è il classico momento di difficoltà nel quale bisogna tenere duro, bisogna far fronte a quelle che sono le proprie debolezze e cercare di superarle un po' con la testa più che con i muscoli. Prima abbiamo fatto due chiacchiere con Andrea Di Liberto e gli abbiamo chiesto delle emozioni, delle emozioni di successi ottenuti in barca singola e successi ottenuti in barca multipla. Lui ha ricordato quanto è stata utile per voi, la vostra rivalità, le vostre sfide, ma quanto poi dopo il vostro successo ai campeonati europei, che in una stagione così vincente è quasi passata in secondo piano, però avete vinto il K2 ai campeonati europei in stagione sui 200 metri, ha detto quanto è stato bello poter vincere con il mio avversario di sempre, che è stato quello che mi ha aiutato a fare il salto di qualità, che ci ha aiutato a fare il salto di qualità. Diciamo che quella con Dili è stata una sfida durata tanti anni, la cosa bella è che è sempre stata una sfida solo agonistica, non c'è mai stato nessun tipo di astio a livello personale, e eravamo tutti e due veramente molto emozionati di poter fare quella gara, perché era un modo anche per riuscire a fare barca, a fare squadra con qualcuno che è sempre stato il tuo avversario. Come ha detto giustamente lui e come ti confermo io, conoscerci è stata per tutti e due la cosa più importante, perché a me, almeno per quel che mi riguarda, ha permesso di crescere tantissimo, perché avere un avversario così importante, così forte, così agguerrito, ti fa crescere. Io penso che un augurio che posso fare a chiunque qui è di trovare in squadra o no un avversario che ti stimoli come lui ha stimolato me, e fortunatamente adesso le barche olimpiche saranno degli equipaggi, quindi la gioia di poter fare barca con qualcuno che sai che ci crede quanto te, si impegna quanto te, se non forse di più, è importantissima, perché questo permette di fare degli equipaggi di qualità. Benissimo, allora sull'augurio di Manfredi, invitiamo i ragazzi a avere tanti avversari a prepararsi a questa sfida. In bocca al lupo ragazzi, ok? E in partezza la gara del K1 junior maschile. E in partezza la gara del K1 junior maschile. Partita la gara del K1 junior maschile, mille metri, sull'augurio di Manfredi Rizza di trovare avversari per poter crescere, ecco che si sfidano Kolobov, Bosio, Palliola, Soldi, Muccelli, Vittor, Dallarosa e Zerbinato. Parte velocissimo in acqua 4, Soldi Giulio della Canottieri Bissolati, seguito in acqua 6 da Vittor Matteo della Canottieri Timavo. E in terza posizione l'acqua 8 di Zerbinato Giovanni della Canottieri Padova. 200 metri di gara già fatti, passaggio in 45 secondi e sempre a condurre l'acqua 4 di Soldi Giulio della Canottieri Bissolati. in seconda posizione l'acqua 6 e sempre Vittor Matteo. e in terza posizione l'acqua 3 di Fabiano Palliola del circolo caia a Castel Gandolfo. 300 metri di gara andati, 1,9 il passaggio, 23 secondi a 100 metri di media, un'ottima media in previsione dei mille metri. Adesso le prime quattro bar che sono molto allineate, l'acqua 3, l'acqua 4, l'acqua 5, l'acqua 6. Siamo a 15 chilometri all'ora di velocità media. In questo momento passa davanti Fabiano Palliola del circolo caia a Castel Gandolfo, del grande Gino Marcelli, qua presente a bordo campo, e grande Gino! è Palliola che comanda, in seconda posizione l'acqua 5, Muccelli Tommaso del Canoaclub Sandonà, in terza posizione l'acqua 4, Sol di Giulio, Vittor Matteo in quarta posizione, è sempre Palliola, il passaggio ai 500 metri davanti, colpo molto ampio, colpo molto carico, come vuole il suo coach Roberto Manni da Sorcapanna. Continua la progressione di Fabiano Palliola, in acqua 5, Muccelli Tommaso si fa sotto, questo momento di gara dove 15 chilometri all'ora è sempre la velocità istantanea di Palliola-Fabiano, seconda posizione per Muccelli Tommaso del Canoaclub Sandonà, in terza posizione l'acqua 4, Sol di Giulio, l'acqua 6 di Vittor Matteo in quarta posizione, un po' distanziati gli altri, 250 metri di gara, si fa sotto Muccelli Tommaso, un po' di fatica nel colpo di Palliola-Fabiano, a 200 metri dall'arrivo, 3 minuti e 12 di gara, la curva dei Castellani si fa sentire, 150 metri per Palliola e Muccelli all'arrivo, in terza posizione saldo Giulio Soldi e in acqua 6, la quarta posizione Vittor Matteo, ultimi 60 metri da percorrere, sempre duello tra Palliola-Fabiano e Muccelli Tommaso del Canoaclub Sandonà, terza posizione derby tra Soldi e Vittor, ultimi metri per Palliola, che conclude Palliola vincitore in 3,59, seguito da Muccelli Tommaso, 4,02, terza posizione per l'acqua 4, Soldi Giulio, quarta posizione per Vittor Matteo, ultimi metri per l'acqua 7,8 e 1,2, complimenti ragazzi e conclude in questo istante la finale, un grande applauso a tutti i finalisti, in particolare a Palliola-Fabiano, vincitore di questa prova con il tempo di 3,59, e 60 e grande gara si è conclusa, era la quarta finale in programma oggi, gara del K1 junior maschile, che vede vincitore l'acqua 3 in 3,59, 60, acqua 5, 4,02, 97, acqua 4, 4,04, 64, segui in quarta posizione l'acqua 6, 4,06, 59, acqua 7, 4,22, 35, acqua 8, 4,23, 49, acqua 1, 4,28, 31, a concludere l'acqua 2 in 4,28,50. Bravissimi ragazzi e complimenti. Puliamo e igienizziamo l'ergometro e segue la quinta finale di giornata, il K1 junior femminile, che vede in partenza all'acqua 1, Cecconi Marta, del Canoa Club Vicenza, all'acqua 2, Grossa Francesca, sempre del Canoa Club Vicenza, Lazzarini Linda, del Canoa Club Sandonà, in acqua 4, Rossetti Giada, della Società Canottieri Timavo, in acqua 5, Struccheli Carlotta, del Canoa San Giorgio, in acqua 6, la Calamita Giorgia, della Marina Militare, in acqua 7, Rodelli Emma, della Canottieri Mincio, e in acqua 8, Biondina Alice, del Canoa San Giorgio. Biondina Alice, Ilaria, per cortesia, qua, alta tecnologia, per la rubrica cose a caso, adesso intervistiamo il vincitore K1 junior, quindi pubblica, ufficialmente, nome, cognome, classe, data. Fabiano Parliola, 2005, junior primo. Grande, allora com'è? Faticosa, però l'ho gestito bene, sono partito piano, e poi sono andato a risalire. Bravo, ma, dici un po', ti sei preparato per questa gara, o invece l'hai fatta un po' così, come veniva? Fatta un po' come veniva, nel senso sono sceso in barca, ma non si può cagliar gommi. Ho capito. Ho sfruttato la scia vostra quando sono ad aeroduno, e mi sono allenato. Bene, bravo, bravo. A chi dedichi questa grande vittoria? A mia nonna, che oggi è il suo compleanno. Auguri alla nonna! Grazie. Bravo, complimenti. Grazie Manfredi, che si sdoppia in più ruoli, da essere atleta, a essere narratore, a essere vincitore. Nel frattempo, vediamo impostarsi la quinta gara in programma oggi, quella del K1 femminile, Juniores, in acqua 1 Cecconi, in acqua 2 Grossa, in acqua 3 Lazzarini, in acqua 4 Rossetti, in acqua 5 Struccheli, in acqua 6 La Calamita, in acqua 7 Rodelli, e in acqua 8 Biondina Alice del Cano San Giorgio. Anche per loro sarà gara di mille metri, sarà una gara che avrà la necessità di essere distribuita in tutto lo sforzo, evitando cambi di ritmo troppo repentini, per un costo sulla prestazione molto alto. In regia, per un commento tecnico, mi affianca Manfredi, in questo confronto su gare, che fondamentalmente sono 5 volte la distanza che tu hai fatto nella tua distanza olimpica, ovvero, loro in una volta sola devono fare più delle tue gare olimpiche. Grazie per averlo ricordato. No, parliamo, cioè, spieghiamo bene, perché magari c'è qualcuno che o si è avvicinato da poco alla canoa o magari non è, insomma, non ha mai visto questo genere di attrezzature, e diciamo che questi sono attrezzi che soprattutto vengono utilizzati per l'allenamento, quando le condizioni climatiche, atmosferiche, eccetera, non permettono magari di uscire in barca, e la cosa interessante di questo tipo di attrezzature è che richiedono all'atleta uno sforzo doppio, perché non essendoci la componente di scorrimento della barca, la gara diventa, adesso io non voglio, insomma, questa non è una cosa bella da dire all'inizio di una gara, però rende la gara ancora più dura. Ok, allora ragazze se siete pronte diamo via allo starter. Start position. Start within 10 secondes. partita la gara del K1 junior femminile mille metri. Velocissima in partenza l'acqua 4 di Rossetti Giada, ricordiamo Giada quarta classificata al mondiale di Montemor nel 2021 nella categoria junior, categoria junior che affronterà anche quest'anno qua, sperando che possa confermare il suo risultato e le sue progressioni. segue l'acqua 7 di Rodelli Emma della Canottieri Minci seconda posizione e in terza posizione l'acqua 5 di Struccheli Carlotta mentre Giorgia la Calamita della Marina Militare col suo passo molto ampio disteso inizia a entrare nella gruppo gara attualmente dopo 200 metri di gara è sempre prima Rossetti Giada seguita dall'acqua 7 Rodelli Emma e in terza posizione l'acqua 6 la Calamita Giorgia che in questo momento ha scavalcato Struccheli Carlotta del Cano San Giorgio oltre i 13 all'ora la velocità istantanea per Giada 300 metri di gara conclusa in 1 e 18 in questo momento conduce Seppre Giada seguita da l'acqua 6 la Calamita Giorgia in terza posizione Rodelli Emma della Mincio e Struccheli Carlotta in acqua 5 questo è il gruppo di testa Manfredi come lo affronteresti in questo momento dell'intensità della gara al centro gara di un mille metri non ne ho idea no la gara appunto siamo nella fase centrale di gara la fase nella quale bisogna cercare di guadagnare il più possibile a livello di velocità di barca cercando di risparmiare però le energie è una fase molto tecnica difficilissima da affrontare che richiede molta concentrazione ed è veramente una fase che può fare la differenza tra un buon mille metri e un buono scoppio sul mille metri ok allora in questo momento qua è sempre Giada Rossetti che conduce in seconda posizione l'acqua 6 la calamita Giorgia e in terza posizione passa Rodelli Emma della canottieri Mincio mentre si allontana leggermente Struccheli Carlota del cano a San Giorgio mancano 400 metri all'arrivo conduce sempre Giada Rossetti e in seconda posizione l'acqua 6 di la calamita Giorgia ma per fare i pignoli rispetto alla tua indicazione di prima la velocità la raggiungiamo la perdiamo o la guadagniamo in questa fase di gara? in realtà probabilmente un filino di velocità viene persa credo perché comunque come dicevo prima non essendoci lo scorrimento della barca questa è la fase centrale nella quale è necessario spingere ma anche risparmiare l'energia per il finale io credo che chi ha fatto una buona tattica di gara in questo momento abbia perso qualcosina per poi guadagnarla adesso tra poco negli ultimi 250 metri di gara esatto 250 metri di gara che ha passato in questo momento Rossetti Giada che conduce ancora la gara seguita in seconda posizione dalla calamita Giorgia rimane in terza posizione Rodelli Emma della canottieri Mincio e in quarta posizione l'acqua 3 di Lazzarini Linda che sta tornando sotto del canoaclub Sandonà allunga decisamente Giada Rossetti del Timavo a 150 metri dall'arrivo 150 metri che è già un quarto della tua gara Manfred sono tre quarti della mia gara in realtà sì 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 siamo alle battute finali gli ultimi 100 metri adesso si tratta solo di tenere duro e mantenere la posizione credo che sia cruciale in questa fase cercare di ricorrere a tutti i muscoli del corpo senza farsi sopraffare dalla fatica continuare a muoversi è la chiave vediamo che l'acqua 3 sta risalendo bene esatto conduce sempre Giada Rossetti all'acqua 4 segue in seconda posizione la calamita Giorgia conclude Giada Rossetti in 4 e 34 e 36 seguita dalla calamita Giorgia in terza posizione Rodelli Emma alle battute finali le ragazze della Canocla Vicenza ragazze della disciplina della discesa bravissime ragazze biondina Alice del Cano a San Giorgio e se è conclusa la gara ragazzi un applauso alle nostre ragazze e complimenti vince l'acqua 4 in 4 34 36 seguita l'acqua 6 4 38 98 in terza posizione Lazzarini Linda in 4 39 04 in quarta posizione l'acqua 7 in 4 40 75 acqua 5 4 42 93 in sesta posizione l'acqua 2 4 52 18 settima posizione l'acqua 8 4 59 61 conclude l'acqua 8 dall'acqua 1 in ottava posizione in 5 00 e 13 bene si è interessante qua come appunto come dicevamo prima la tattica di gara a volte sia importante abbiamo visto un acqua 3 leggermente arretrata nella fase centrale di gara che proprio poi ha fatto un gran gran finale un ottimo rush finale che le ha permesso di raggiungere la terza posizione quindi ottima la gestione di gara complimenti a tutte queste ragazze lo ricordiamo questo genere di gare sono veramente molto molto difficili da affrontare veramente molto faticose viene veramente stimolata tantissimo la forza dell'atleta e il fatto che si sottolinei la fatica ad essere di buon auspicio per la gara che dobbiamo andare a presentare che è quella del K1 senior che vede all'acqua 1 Gasparini Luca della canottiera Agniene direi che l'acqua 2 lo presenti te Manfredi allora in acqua 2 Bazzano Matteo della canottieri Ticino atleta con il quale mi alleno e sul quale non voglio mettere nessuna pressione ma se non vinci poi lo vedi Combi Giacomo del Cuspavia Bernocchi Giulio della Niene Sibbersen Magnus della Danimarca Freschi Tommaso della Niene Ducchini Gabriele ancora Niene e Bogolin Luca ancora Niene una ampia rappresentativa della Niene i giocatori giocano in casa loro qui di Roma e invito il pubblico a non ti fare per Freschi allora ricordiamo che al Pagargometro 1 ci sarà Gasparini Luca al 2 Bazzano al 3 Combi al 4 Bernocchi Giulio Sibersen al 5 Freschi al 6 Ducchini al 7 all'8 Bagolin e per rimanere sul tema Manfredi questi ragazzi qua saranno i tuoi prossimi avversari perché è passata la cadoria giovanile loro sono segno seppur giovani sono comunque il segno e saranno atleti che magari non magari sicuramente alle prime gare nazionali gare indicative del primo weekend di aprile a Milano saranno i tuoi futuri nuovi giovani avversari sì grazie per aver sottolineato più volte il giovani e che dire gli auguro il meglio sicuramente hanno tutti delle ottime capacità se sono se sono qui vuol dire che hanno tutti quanti un'ottima capacità di esprimersi di esprimersi sul diciamo sul mezzo fondo sarà una gara interessante credo dove veramente la tattica farà la differenza abbiamo tanti atleti veramente forti vediamo qua davanti il buon Freschi che si sta preparando con la sua zeppetta e niente che dire come dicevo prima sarà una gara interessante questi sono atleti veramente tutti molto forti che sono sicuro faranno delle ottime performance alle gare di Milano tra un mese quanto è poco meno facciamo del gossip siete alla conclusione della settimana di Raduno so che con Oresse Peri Stefano Lodo e Davide Aliprandi che sono i tecnici del settore senior avete fatto anche delle prove degli alleamenti in barche miss proprio per capire automatismi o difficoltà perché giustamente facendo cose nuove si affrontano per delle difficoltà cosa che sensazioni hai avuto da questi primi allenamenti sulle barche multiple allora diciamo che la barca multiple è molto complessa perché non basta essere dei buoni atleti bisogna anche imparare a relazionarsi con con gli altri componenti della barca abbiamo fatto delle prove sicuramente sono venute fuori delle cose interessanti vedremo insomma è sempre difficile fare dei pronostici sulle barche multiple perché poi l'alta complessità della barca fa sì che ci sono molte le variabili in gioco vedremo insomma noi stiamo lavorando abbiamo provato le barche abbiamo cominciato a capire quali potrebbero essere le barche più interessanti da vedere e niente insomma vedremo è difficile come dicevo è difficile fare dei pronostici ok adesso proprio per le quote rosa adesso Manfredi intervisterà i rossetti Giada vincitrice della gara del K1 femminile e ti ricordo che Giada è stata quarta al campionato del mondo dell'anno scorso a Montemore nella categoria junior femminile riprendiamo intanto che si riscaldano i senior la rubrica cose a caso allora una domanda che interessa a tutti ce l'hai il ragazzo? no allora ragazzi Giada è single sei in cerca di un uomo? no no grazie sto bene single stai bene stai bene mi dispiace sta bene single quindi non beccate niente però però nel caso seguitela su Instagram si Giada rossetti trattino basso ma le pubblichi le foto quando sei al mare? si ok pubblica le foto quando al mare quindi seguitela e niente che dire allora questa gara com'è? dai sensazioni domanda seria sensazioni allora beh tanto da gestire questa gara perché appunto quella che ho fatto prima sono partita un po' forte non sono riuscita a gestirmi però questa mi sentiva molto bene sono partita bene ho tenuto bene ho chiuso bene va bene mi sembra che l'hai fatta bene quindi questa gara si si perfetto se puoi dai un consiglio a questi ragazzi tu sei giovane però hai già un'ottima esperienza a livello internazionale hai appena finito la gara dai un consiglio ai senior che stanno per partire beh ovviamente gestitevi bene e sai che non avevo dubbi che l'avresti detto quindi vabbè fatela bene ok ma a parte farla bene non fatela male di impegnarsi e di lavorarci tanto su cosa devo lavorare in generale se bisogna arrivare se volete arrivare a un certo livello bisogna allenarsi molto ok ok non hai sconvolto diciamo nessuno però ok e sì parliamo della stagione che sta per venire ti abbiamo visto comunque in gara molto bene come hai detto giustamente e in controllo sulla sulla gestione della gara quindi si vede che hai lavorato bene durante l'inverno e insomma prospettive per questa stagione beh sicuramente quella di entrare in selezione e appunto sto anno a fare risultato a livello europeo mondiale e medaglia quindi puntiamo alle medaglie dai bocca al lupo crepi dai puoi andare mi raccomando seguitela e niente adesso lasciamo la parola a sua maestà Ezio che procede con la telecronica della gara ok presentiamo la prossima gara che è il K1 senior maschile Gasparini Luca della Canottieri Agniene Bazzano Matteo della Canottieri Ticino Combi Giacomo Cuspavia Bernocchi Giulio Canottieri Agniene Sibersen in rappresentanza della Danimarca Freschi Tommaso Ducchini Gabriele Bagolin Luca del circolo Canottieri Agniene ok ragazzi fermiamo le macchine partita la finale del K1 senior parte velocissimo l'acqua 5 l'acqua 5 di Sibersen Manus della Danimarca partito molto forte adesso si mette davanti l'acqua 2 Bazzano Matteo della Canottieri Ticino giovanissimo finalista l'anno scorso sei mondiali sia i campionati europei del K1 200 e i campionati del mondo e quinto classificato come capovoga nel K4 500 maschile junior si distende ed esce l'acqua 4 Bernocchi Giulio in questo momento seguito in acqua 6 da Freschi Tommaso derby in Casaniene derby romano dopo 250 metri di gara è Giulio Bernocchi che conduce esce molto potente forte Freschi Tommaso punta punta velocità istanteante 16 km 3 all'ora molto veloci ragazzi testa a testa tra Giulio Bernocchi e Freschi Tommaso seguiti da da Sibersen della rappresentanza da Danimarca e in quarta posizione l'acqua 7 del giovane Gabriele Ducchini ricordiamo i risultati di Gabriele dell'anno scorso quarto posto nel K2 il campionato del mondo di maratona quinto il campionato del mondo di velocità con il K4 500 finalista con Gasparini Luca nel K2 1000 ai campionati europei grande anno quello di Gabriele l'anno scorso e adesso passa al comando Freschi Tommaso Tommy passa con una velocità istantanea di 16 km all'ora paga un momento il passo per Giulio Bernocchi in seconda posizione mentre Sibersen è sempre in terza posizione molto vicino a Giulio in questo momento prosegue la marcia di Tommaso molto sicuro nel colpo un colpo espresso molto sulla forza e poco sulla frequenza mentre in quarta posizione è sempre il giovane Gabriele Ducchini della circolo canottiera Niene mentre a 250 metri dall'arrivo circa è in vantaggio Tommaso Freschi in seconda posizione Sibersen Magnus della Danimarca e in terza posizione Giulio Bernocchi della circolo canottiera Niene segue Gabriele Ducchini sempre della Niene e l'acqua 3 con Bigiacomo del Cuspavia in quinta posizione ultimi 150 metri per Tommaso e Sibersen è un punta punta tra Freschi e Sibersen in questi ultimi metri 16.4 16.5 la velocità di Tommaso passa in questo momento Sibersen in seconda posizione Freschi Tommaso e avanti con la velocità istantanea di 16.6 Sibersen per quanto riguarda la Danimarca segue Freschi Tommaso e in terza posizione Giulio Bernocchi 16.3 di Magnussen ultimi 10 metri per il danese che conclude in questo momento in seconda posizione Giulio Bernocchi e Tommaso Freschi terza posizione per Giulio Bernocchi quarta posizione per Gabriele Ducchini che conclude in questo momento quinta posizione per Combi Giacomo seguono gli altri partecipanti alla finale e conclude in questo momento Gasparini Luca sempre del circolo Canottieri Agniene bravi ragazzi un grande applauso al pubblico prima posizione per l'acqua 5 in 3 43 27 segue l'acqua 6 in 3 44 e 30 terza posizione l'acqua 4 3 46 17 acqua 7 356 99 acqua 3 357 14 acqua 2 359 24 acqua 8 400 13 acqua 1 406 51 Manfredi velocità importanti 3 43 sul pagare ergometro è veramente una grandissima prestazione assolutamente sì una gara veramente incredibile una gara che ha confermato un po' quello che avevamo detto all'inizio la tattica avrebbe fatto la differenza abbiamo visto Sibersen mettersi su un passo che gli ha permesso di gestire bene tutta la gara e l'abbiamo visto venire su molto bene nella fase finale senza avere cali senza avere momenti di incertezza e niente una gara come dicevo veramente di livello e molto emozionante devo dire ho faticato io per loro no veramente complimenti a tutti abbiamo visto una partenza forse un po' poco gestita da uno a caso tipo Bazzano Matteo insomma mi aspettavo non mi aspettavo niente di meno in realtà da lui e niente no però una gara veramente no a parte di scherzo una gara come dicevo di livello una gara nella quale si sono espressi tutti veramente molto bene anche tecnicamente e credo che saranno delle gare interessanti anche quelle di aprile insomma vedendo questo livello qui adesso interessante sì come hai detto te prima il pagaergometro è un attrezzo che simula la pagaiata stimola determinate caratteristiche ma forse ne indibisce altre e siamo in una fase preparatoria della stagione quindi certi valori sono indicativi in prospettiva cioè la classifica sarà un'altra ovviamente la gara sarà un'altra la gara di qualifica più importante a questo punto diventano i 500 metri quindi questo è un momento della preparazione la preparazione che tu quest'anno hai cambiato per tornare a una sensazione tua che sei tornato a quello che ci hai descritto nella tua giovane età come è passare da un punto di vista di volume e intensità rapporto volume e intensità nel preparare una stagione da 200 metri o rapporto volume e intensità per preparare una stagione da mezzo fondista veloce che sono i 500 metri sì diciamo che per quel che mi riguarda la complessità più grande è stata soprattutto tecnica nel senso che chiaramente il mio approccio al colpo era dedicato esclusivamente ai 200 metri questo significa un'altissima efficacia tecnica possiamo dire così quindi un altissimo rendimento per colpo ma di contro un elevato dispendio di energie per colpo questo poteva andare bene nei 200 ma sicuramente non va bene per i 200 questo dal punto di vista tecnico dal punto di vista fisiologico diciamo e della preparazione atletica bisogna avere bisogna andare a stimolare un po' la capacità anche di resistere alla sofferenza della gara per cui tutto quello che succede dopo i primi 250 metri di competizione che è una capacità importante saper far scorrere la barca anche in condizioni di fatica e riuscire a resistere a questa fatica quindi non è facile si fa si farà per step insomma io credo che mi ci vorrà ancora un pochino per entrare nel pieno della distanza però si vedrà benissimo per continuare la nostra confusione presentiamo la prossima finale che è quella del K1 senior femminile e vedrà impegnate all'acqua 1 Guadagnini Aurora della società Caia Canoa Monfalcone all'acqua 2 Chiaberge Laura del circolo nautico Orristano all'acqua 3 Capodimonte Francesca della Marina Militare all'acqua 4 Sigillo Enrica del circolo nautico Orristano dal Dossara in acqua 5 per la Canottieri Padova Vesentini Sara Canottieri Mincio all'acqua 6 all'acqua 7 Munerato Giorgia per la Canottieri Padova e sempre per la Canottieri Padova all'acqua 8 Mazzuccato Giorgia ragazze prego accomodatevi sul vostro ergometro nel frattempo Manfredi Blinda Tommaso Freschi Tommaso ti aspettiamo qua al corner visto che con Manfredi Tommaso avete fatto qualche giorno di allenamento direi che possiamo entrare nel vivo del gossip della situazione Tommy Tommaso sei atteso proseguiamo la rubrica cose a caso allora mettiamoci a favore di telecamera ciao Tommy come va meglio sei minuti prima andava meglio prima dici tu però ti abbiamo visto bene anche tu hai fatto hai dato un'ottima gestione di gara ti abbiamo visto un po' indurito forse sul finale sì sicuramente da noi c'è meno cultura dell'ergometro rispetto alla Danimarca infatti si vede anche proprio tecnicamente c'è un approccio differente al percorso proprio anche nel gesto però sono abbastanza felice rispetto alle sensazioni delle batterie molto meglio bene bene probabilmente serviva anche un po' di confidenza con la distanza sì obiettivamente io i mille in carriera non li ho mai fatti quindi no scherzo dir balle oh cos'è a caso no sì l'ergometro per noi è uno strumento comunque di allenamento non siamo abituati a farci un percorso ad avere un fine prestazionale in questa maniera quindi era una cosa un po' nuova sì allora noi abbiamo finito adesso ieri la settimana 10 giorni di raduno con la nazionale quindi sicuramente questo periodo di allenamento intenso avrà avuto probabilmente anche un po' un effetto su questa gara sì è stato un mix di cose per rendere la prova ancora più estenuante però la canoa è bella così senza sofferenza non sarebbe il nostro sport molto bene molto bene adesso ti faccio andare perché stai gocciolando sul microfono quindi ti faccio andare ti faccio andare a riposare se vuoi mi asciugo sulla sua felpa ecco se vuoi ti asciugo no va bene ringraziamo Tommaso te ne puoi andare ciao 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 e niente siamo qua partenza delle queste cose sono senior, junior no senior senior femminili e quindi passo la parola a Ezio per la lista abbiamo in partenza tutte atlete nate dopo il 2000 tranne un atleta nata nel 1994 che è Capodimote Francesca in rappresentanza della Marina Militare quindi è una sfida tra generazioni e di millenni diversi Manfredi come in parte lo può essere stato tra te e Tommaso direi esatto esatto io mi sento un po' di empatizzare con con i nati prima del 2000 e che dire noi vecchietti dobbiamo un po' come dire far capire ai giovani che va bene sono bravi ma ci siamo anche noi quindi in bocca al lupo Francesca sono sicuro che tra l'altro lei da ottima millimetrista qual è saprà dar sfoggio di ottime qualità lo ricordiamo lei ha sempre gareggiato su 200 metri anche lei quindi sono sicura che farà un ottimo percorso vabbè con la presentazione di Manfredi di Francesca Capodimonte in rappresentanza della Marina Militare atleta nata nel 1994 proseguiamo proseguendo con l'acqua 1 Guadagnini Aurora della società CAI a Canoa a Monfalcone all'acqua 2 Chiaberge Laura è atleta del 2003 rappresentanza del circo nautico Ristano che appunto Laura l'anno scorso era in barca con Giada Rossetti nello storico K4 500 femminile che è arrivato quarto al mondiale è stato il mio risultato a un campionato del mondo per quanto riguarda dalla nostra barca femminile giovanile e Manfredi tu sei stato su una delle nostre migliori barche maschili da junior nel lontano 2009 sì sì che dire io tra l'altro lei la conosco personalmente perché mi sono allenato per un paio d'anni ad Oristano quindi la conosco e so che è una ragazza che si impegna molto sono molto contento del risultato che ha ottenuto perché secondo me premia l'impegno e la fatica che le ho visto mettere negli allenamenti per svariati anni benissimo proseguiamo all'acqua 3 appunto Capodimonte Francesca in rappresentanza della Marina Militare Sigillo Enrica atleta del Ciro Nautico Ristano dal Dossara della Canottieri Padova all'acqua 5 in acqua 6 Vesentini Sara della Canottieri Mincio in acqua 7 Munerato Giorgia Giulia chiedo scusa della Canottieri Padova e all'acqua 8 Mazzucato Giorgia sempre della Canottieri Padova ultimi minuti di preparazione e di impostazione per le atlete e poi prenderà sarà l'ultima questa l'ultima finale del programma del kayak perché poi seguiranno le finali della specialità della canadese specialità della canadese Manfredi che tu ovviamente non hai mai praticato ma hai visto evolvere in questi anni qua nel settore sia da quello giovanile fino a quello senior vittoriosissimo al recente campeonato del mondo di Copenaghen e Montemore Under 23 sì diciamo che io ritengo di aver vissuto nel periodo d'oro forse della canadese italiana ricordo i primi successi nel 2009 dei ragazzi allenati da ventriglia se non sbaglio che presero le prime medaglie in C4 allora un argento se non sbaglio in C4 da lì è stato fatto tutto un importantissimo lavoro soprattutto a livello giovanile e siamo arrivati a partecipare direi in maniera abbastanza autorevole ad una finale olimpica con Carlo Tacchini per poi vedere un altro quadriennio veramente splendido nel quale il C2 Santini in collingo ha dato prova di essere veramente uno dei C2 scusate più forti al mondo per un pelo non sono riusciti a qualificare per le olimpiadi di Tokyo ma questo non ha fermato la squadra purtroppo abbiamo assistito al triste saluto di Luca in collingo che si è ritirato dall'attività agonistica diciamo perché comunque aveva raggiunto una veneranda età anche lui però è stato egregiamente sostituito da Nicolai Cracciun con il quale Santini è riuscito a vincere il mondiale nella recente edizione ok torniamo all'angolo social corner e al gossip mi hanno fatto notare in un messaggio perché ai ragazzi non chiedi se sono fidanzati perché dei ragazzi non gli frega niente a nessuno no non è vero avete ragione non l'ho chiesto anche ai ragazzi è vero è vero chiedo perdono lo chiederò comunque se proprio lo volete sapere Tommaso Freschi è già fidanzato mi dispiace mi dispiace tra l'altro la sua ragazza è sudamericana io non mi ci metterei contro perché quella vi accoltella nel sonno la saluto Francesca ciao ti voglio bene vabbè qua la la polemica imperversa ok se le ragazze sono pronte iniziamo a fermare le macchine grazie grazie partita in questo momento la finale del K1 senior femminile all'acqua 1 Guadagnini Aurora dell'SKC Monfalcone acqua 2 Chiaverge Laura Circo Nautico Oristano all'acqua 3 Capodimonte Francesca Marina Militare acqua 4 Sigilò Enrica Circo Nautico Oristano acqua 5 Daldò Sara Padova Vesentini Sara alla 6 Mincio 7 Munerato Giulia Padova 8 Mazzucato Giorgia Canottieri Padova partita la gara subito avanti l'acqua 5 di Daldò Sara in sicurezza prende il comando sulla gara seguita in acqua 6 da Vesentini Sara prendono abbastanza a largo le due atlete e in acqua 1 in terza posizione Guadagnini Aurora dell'SK Monfalcone 250 metri fatti 1 minuto e 4 il passaggio vede sempre Sara Daldos al comando seguita da Sara Vesentini e per la terza posizione si contendono la quota l'acqua 1 e l'acqua 3 di Capodimonte Francesca siamo nella fase centrale di gara ovviamente Manfredi il quoziente forza ha una sua importanza sia sull'aspetto tecnico e sia sulla parte della resistenza sì diciamo che tendenzialmente assistiamo a due tipi di approccio al colpo gli atleti più forti cercano di valorizzare appunto le loro qualità e quindi magari li vedremo con una frequenza leggermente più bassa mentre atleti diciamo meno predisposti alla forza li vedremo con una frequenza un po' più alta per cercare di far girare la ventola il più possibile vediamo che comunque l'acqua 5 sta prendendo il largo sì sì siamo a metà gara e sempre Sara Daldos che comanda la gara 13.3 di velocità istantanea seguita da Sara Vesentini della Canottieri Mincio hanno fatto un pochino il vuoto in terza posizione si conferma Capodimonte Francesca della Marina Militare e in quarta posizione Guadagnini Aurora seguita vicinissima da Munerato Giulia della Canottieri Padova e per ora appare netto il vantaggio di Sara Daldos della Canottieri Padova e Sara Vesentini ha una barca sì che dire abbiamo visto stiamo vedendo una prova autoritaria direi al momento credo che abbia sempre mantenuto la velocità più alta in gara quella di Sara Daldos la vediamo anche abbastanza in controllo sembra abbastanza sciolta per quanto si possa essere sciolta in questo genere di gare io vorrei fare una menzione d'onore per ora alla prestazione di Francesca Capodimonte che sta veramente spagaiando bene e dando prova di esserci ancora in gara la vediamo tra l'altro in recupero vediamo una velocità leggermente più alta rispetto a quella dell'acqua 6 quindi può succedere ancora tutto sì abbiamo passato gli ultimi 200 metri di gara è sicuro in questo momento la performance è il risultato di Sara Daldos decisamente al comando in seconda posizione Sara Vesentini e Francesca Capodimonte si sta mantenendo in terza posizione rintuzzando l'attacco di Munerato Giulia della Canottieri Padova ultimi 100 metri per Sara Daldos che si produce in ulteriore progressione del tratto finale sempre in seconda posizione Sara Vesentini e la terza posizione a questo punto di Francesca Capodimonte atleta del 1994 ricordiamo si conferma per esperienza vicino alle migliori assolutamente sì ottima la gestione intanto la vittoria di Sara Daldos col tempo di 4.27.04 e come dicevo un'ottima prova ottima la prova anche di Vesentini Sara che ha saputo gestire al meglio le energie ha saputo resistere all'attacco di Francesca che adesso si accinge a concludere in terza posizione quindi la seconda in 4.42.44 e la terza in 4.48.54 bene si stanno concludendo le prove di tutte le ragazze e invitiamo il pubblico presente a un grande applauso per lo sforzo delle ragazze e di tutti i ragazzi fin qui che hanno gareggiato e sforzo che Manfredi colgo l'occasione per chiederti nel tuo percorso di crescita come atleta c'è stato anche un grande percorso tuo di studio quanto ti ha aiutato il diversificare lo studio lo sport, l'allenamento e quanto del tuo studio sei riuscito a riportare essendo i tuoi studi di ingegneria molto tecnici su un aiuto diciamo così tecnico sulla canoa domanda complessa sì domanda complessa diciamo che ho voluto portare avanti anche gli studi mi sono laureato in ingegneria dei materiali delle nanotecnologie al Politecnico diciamo che per me lo studio è sempre stato un po' una valvola di sfogo comunque la vita da atleta è abbastanza dura sia mentalmente che fisicamente quindi a me studiare è sempre piaciuto e quindi almeno studiare quelle cose lì mi è sempre piaciuto per cui per me era un ottimo modo anche per distrarmi dagli allenamenti tra l'altro io consiglio sempre a tutti di studiare perché ti apre la mente come hai detto tu è importante perché ti dà una visione diversa del mondo delle cose io non credo di aver utilizzato le conoscenze tecniche magari non le utilizzi in barca però sicuramente ti danno un approccio un po' magari più analitico a quello che può essere un gesto tecnico o qualcosa di simile ok allora andiamo all'angolo delle interviste Manfredi così blindiamo subito le due sare che vedo una in leggera difficoltà la non più giovane Francesca Capodimonte che potrà essere intervistata quindi ragazze avvicinatevi e avrai un podio di interviste Manfredi nel frattempo Sara Vesentini ci fa vedere nozioni di stretching a te la parola Manfred sì siamo qua con rubrica cose a caso abbiamo qua le giovanissime sare e la non più giovanissima Francesca la nonna Francesca allora ragazzi venite qua venite qua guadagnate il favore delle telecamere allora che dire abbiamo qua il podio delle senior ti abbiamo visto un po' in sofferenza che succede? no mi è venuto un crampo cioè al dol sale tipo e niente eh sono i mille che mi fanno questo effetto brutta cosa i mille metri brutta cosa come mai? perché vi siete cimentate? chiediamola Francesca perché ti sei cimentata in una cosa del genere? qual è il moto dell'animo che ti ha portato ad affrontare un mille metri? sinceramente non lo so molto bene non ho altre domande vostro onore adesso parliamo con la vincitrice allora Sara dimmi un po' com'è sensazioni? feeling? eh sono stanca vabbè un mille metri sull'ergometro quindi è divastante a prescindere ok molto bene abbiamo visto un buon controllo di gara e una buona gestione tutto sommato del percorso e come ti senti anche nei confronti delle gare che verranno del adesso tra un mese ci saranno le selezioni qual è il tuo la tua prospettiva dacci un po' di così di rumours vabbè sicuramente in acqua è meglio che sull'ergometro quindi non lo so vabbè insomma lavoriamoci un po' sulle interviste per cortesia vabbè domanda di rito perché qua sennò poi il pubblico si lamenta avete siete fidanzate? sì no comment no comment allora abbiamo due sì e un no comment quindi mi dispiace lei è felicemente sposata da 80 anni sposata? non so sposata con se stessa da 80 anni vabbè insomma poi facciamo del gossip dai tu sei fidanzato io sono fidanzato sì mi dispiace sono fidanzato e niente no seguitele anche loro seguite anche i ragazzi di prima mi raccomando ragazzi complimenti a tutte e tre soprattutto a te che comunque c'è una certa età insomma adesso puoi andare a riposarti e in bocca al lupo per la vostra stagione no tutte e tre no tu no però voi due avete fatto le gare quest'anno giusto in nazionale under 23 corretto beh io faccio sempre gaff sbaglio sempre tu ormai non sei più under 23 quindi niente finisce però allora voi due avete fatto le gare come sono andate parlateci un po' di questa stagione 2021 beh poteva andare meglio però tutto sommato dai sono abbastanza soddisfatta no io cioè allora gli europei insomma sono andati male cioè molto sinceramente i mondiali insomma meglio poi ho sperimentato il K2 misto che è la gara più diventante del mondo e niente esatto e niente va bene l'importante è migliorarsi l'importante è sempre migliorare se l'europeo è andato male poi il mondiale è andato bene vuol dire che hai azzeccato vabbè l'importante l'importante è sempre fare qualcosa meglio brave ragazze complimenti potete andare a riposarvi tu vai a sciogliere i tuoi crampi fate stretching fate stretching Ilaria siamo qui con Ilaria Spagnolo rubrica cosa mi stai portando via il come si chiama il banner cioè ma che è sta malacrianza vabbè niente intanto i tecnici qua mi sistemano per i canadesi io sui canadesi non metto bocca perché veramente non ne capisco niente e quindi Ezio tu sei stato canadese o no? per gioco sì è quello che stiamo cercando di proporre a tutti l'attività multidisciplinare multidisciplinare multilaterale quindi penso che ogni bambino che approccia la canoa debba avere il piacere il divertimento di sperimentare tutto quello che è canoa che sia acqua piata che sia fiume che sia il gioco con la palla quindi la canoa polo e tutte le discipline che questo mondo ci consente allora prima di procedere alle gare della canadese andremo avanti con una sessione di premiazioni che partiranno dalla paracanoa maschile seguirà la paracanoa femminile e via di seguito l'ordine delle ragazze ragazzi maschile ragazzi femminile junior maschile junior femminile quindi invitiamo tutti gli atleti posizionati sul podio Volpi Crissia Mancarella Federico e Bezzi Lorenzo avvicinarsi all'area premiazione ricordiamo Volpi Crissia Mancarella Federico e Bezzi Lorenzo per la paracanoa maschile per la paracanoa femminile Embriaco Amanda della Canottieri Sanremo che direttamente da Sanremo ci canterà in duetto con Manfredi Rizza De Paulis Eleonora della Circolo Canottieri Gagnene Grazie 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 Invitiamo le premiazioni per la gara di paracanoa maschile Volpi Crissia Mancarella Federico e Bezzi Lorenzo per la paracanoa femminile Embriaco Amanda e De Paulis Eleonora a seguire i K1 ragazzi maschile e femminile Avviciniamoci all'area premiazioni Volpi Cristian Mancarella Federico e Bezzi Lorenzo Agnene in zona premiazione Embriaco Amanda Sanremo De Paulis Eleonora Agnene in zona premiazioni Grazie Grazie Invitiamo alle premiazioni gli atleti Volpi Cristian delle Saline Mancarella Federico Canocla Bologna Bezzi Lorenzo Circolo Canottieri Agnene Per la paracanoa femminile Embriaco Amanda Canottieri Sanremo De Paulis Eleonora Circolo Canottieri Agnene Grazie A seguire A seguire per il K1 ragazzi maschile Penasa Giovanni del Cuspavia Bocchinfuso Marco Canottieri Eur Struccheli Rodolfo del Canoà San Giorgio Avviciniamoci all'area premiazioni Grazie A seguire Beretta Sofia Ledro Barbieri Rebecca Cuspavia Mattia Francesca Fiamme Gialle Ragazzi dopo tanta fatica avvicinatevi per il vostro momento di gloria per le premiazioni invitiamo Volpi Crissia Mancarella Federico e Bezzi Lorenzo Embriaco Amanda e De Paulis Eleonora per il settore paracanoa K1 ragazzi maschile Penasa Giovanni Bocchinfuso Marco e Struccheli Rodolfo K1 ragazze femminile Beretta Sofia Barbieri Rebecca e Mattia Francesca Ok Bezzi Lorenzo Ok premiazione per la gara K1 di paracanoa maschile premia Matteo Ciola accompagnato da Monica Albarelli consiglieri federali e rappresentanza della Decathlon in terza posizione per il circolo canottieri agnene Bezzi Lorenzo un applauso in seconda posizione per il K1 paracanoa Mancarella Federico e in prima posizione Cristian Volpi delle Saline premia Matteo Ciola consigliere federale e promotore del progetto Decathlon Challenge bravi ragazzi un applauso ecco il primo podio del Decathlon Challenge è sempre una prima ragazzi complimenti bravissimi nel frattempo si preparano Embriaco Amanda De Paulis Eleonora e il K1 ragazzi maschile Penasa Giovanni del Cuspavia Bocchinfuso Marco della Canottieria Eur e Struccheli Rodolfo del San Giorgio non c'è non c'è non c'è non c'è Grazie. 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 In seconda posizione per la Canottieri Eur, Bocchinfuso Marco. E in prima posizione per il Cuspa Via, Penasa Giovanni. Bravi ragazzi. Un applauso ai ragazzi. Ricordiamo in prima posizione Penasa Giovanni, vincitore di questa edizione del Degaton Challenge. Seconda posizione Bocchinfuso Marco della Canottieri Eur. E in terza posizione Struccheli Rodolfo del Cano a San Giorgio. Bravissimi. Procediamo alla premiazione del K1 di Paracanoa, edizione del Degaton Challenge femminile. Si avvicinano al podio Eleonora De Paulis ed Embriaco Amanda. Accompagna al podio il direttore Tego del settore Acquapiata, Oreste Peri. In seconda posizione Eleonora De Paulis, del Circolo Canottieri Agnene. Applausi. E in prima posizione per la Canottieri Sanremo, Embriaco Amanda. Bravissime ragazze. Bravissime, anche perché avete fatto cinque volte la vostra distanza a gara. Bravi. Si preparano alla premiazione del K1 ragazze femminile Mattia Francesca, Barbieri Rebecca e Beretta Sofia. Avanti ragazze. Beretta, Barbieri, Mattia. Si avvicinano al podio per la premiazione della gara K1 femminile. Beretta Sofia, Barbieri Rebecca e Mattia Francesca. Premia Matteo Ciola. Matteo. Consigliere federale e responsabile del progetto Degaton Challenge. Avviciniamoci ragazze. In terza posizione per le Fiamme Gialle, Mattia Francesca. In seconda posizione per il Cuspavia, Barbieri Rebecca. E vincitrice della Degaton Challenge categoria ragazze femminile, Beretta Sofia. Un applauso ragazzi e ragazze. Si preparano per la prossima premiazione il K1 junior maschile. Soldi Giulio, Muccelli Tommaso, Palliola Fabiano. Grazie. 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 Ok. soldi Giulio della Canottieri Bissolati applausi ragazzi in seconda posizione per il Canoa Club Sandonà Muccelli Tommaso e in prima posizione per il Circo Caglia Castel Gandolfo Palliola Fabiano premiano Gino Marcelli e Matteo Ciola non potete dare il bacio ai valletti e prima posizione premia Palliola Fabiano premiato da Gino Marcelli Presidente del Circo Caglia Canoa Castel Gandolfo bravi un applauso si preparano intanto per la gara K1 Junior femminile Lazzarini Linda la calamita Giorgia e Rossetti Giada avanti le ragazze per il podio femminile Lazzarini Linda la calamita Giorgia e Rossetti Giada ok allora in terza posizione per il Degaton Challenger per il Canoa Club Sandonà Lazzarini Linda applausi ragazzi in seconda posizione per la Marina Militare la Calamita Giorgia e in prima posizione per la Canotieri Timavo Rossetti Giada ai vincitori delle gare del Degaton Change viene offerta una carta a regalo da 50 euro da spendere in tutti i negozi Degaton d'Italia offerti per l'appunto dalla Degato che ci ha ospitato applausi ragazzi brave e belle invitiamo per la la categoria Senior Sibersen per la Danimarca Freschi e Bernocchi Circolo Canottieri Agniene in area premiazioni Sibersen Freschi Bernocchi per la gara maschile per la gara femminile Daldos Vesentini e Capodimonte in area premiazione per la gara per la gara K1 Senior maschile in terza posizione Bernocchi Giulio Circolo Canottieri Agniene in seconda posizione per il Circolo Canottieri Agniene Freschi Tommaso e in prima posizione rappresentanza da Danimarca Sibersen Magnus premia Matteo Ciola consigliere federale responsabile del progetto Degaton Challenge Danceprint Viene sempre offerta una carta regalo dal valore di 50 euro dalla Decathlon che ci ha ospitato e che ha dato il nome a questa manifestazione Bravissimi In premiazione per la gara Senior femminile Capodimonte Vesentini e Daldos Far play sul podio tra l'atleta Magnussen e gli atleti della Canottieri Agniene che si spartiranno il premio offerto dalla Decathlon grazie ragazzi bel gesto di sportività nel frattempo sul podio per la premiazione del K1 Senior femminile Capodimonte Francesca della Marina Militare Vesentini Sara della Canottieri Mincio e Daldos Sara per la Canottieri Padova terza classificata per la Marina Militare Capodimonte Francesca applausi in seconda posizione per la Canottieri Mincio Vesentini Sara e in prima posizione vincitrice di questa edizione del Decathlon Challenge Daldos Sara Canottieri Padova premia Matteo Ciola Medaglia per Sara Vesentini della Canottieri Mincio e per la vincitrice Sara Daldos Canottieri Padova e viene offerta a sé per il premio regalo la carta Decathlon a 50 euro da spedere in tutti i negozi Decathlon d'Italia alla vincitrice Sara Daldos Nel frattempo si stanno preparando gli ergometri per le ultime due finali in programma la gara della canadese maschile e della canadese femminile grazie ragazzi grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti. 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 premia a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Mastraci e a tutti. Grazie a tutti. Alessandra. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. e a tutti.